Alberi caduti, campi allagati e disagi alla viabilità. La pioggia è caduta incessante praticamente per tutta la notte sul territorio di Castellaneta, poi al mattino le forti raffiche di vento hanno fatto il resto. Adesso la situazione è quella che mostrano le nostre immagini mentre sono a lavoro gli uomini della polizia locale e le associazioni di volontariato croce blu ed era. In paese un albero è caduto al suolo in via estramurale in zona zirifico costringendo i vigili a chiudere la strada in attesa della sua rimozione. Si segnala anche l'assenza di acqua comunale in porzioni del centro abitato, problema causato da guassi elettrici alla stazione di pompaggio dell'acquedotto comunale. Per questo è stata prontamente attivata l'Enel per ripristinare il funzionamento. Sulla SP23 campi allagati e soliti problemi nei pressi del ponte della Renella dove alle prime luci dell'alba un'auto era uscita fuoristrada. Immagini che parlano da sole e che preoccupano anche e soprattutto perché se la pioggia dovesse continuare a cadere copiosa potrebbe compromettere la viabilità sulla provinciale che porta a Gioia del Colle. La Gaudella per il momento regge bene mentre resta sotto la lente di ingrandimento la strada provinciale 13 che conduce a Castellaneta Marina, proprio dove è in corso una mareggiata. Per questo sono stati chiusi per precauzione i sottopassi laterali di accesso a lungomare.